Musica Sanità, piano ospedaliero della regione Campania, Polla perde 8 unità complesse e 48 posti letto, Roberto De Luca, sacrificio sopportabile, si vedrà. Sana Consilina, l'Istituto del Liceo, Marco Tullio Cicerone, via libera ai lavori per l'adeguamento sismico. Fondi piccoli comuni, Monte San Giacomo e Teggiano hanno già individuato la destinazione. Padula, il 2 febbraio la rassegna Cinema e Certosa con Comune e Vallo a Conoscere. Sport, calcio, gli arbitri, le designazioni per la sezione AIA di Sala Consilina. Buonasera gentili telespettatori, ben trovati con l'appuntamento con la nostra informazione. Andiamo in apertura a parlare di sanità e precisamente del nuovo piano ospedaliero, perché il Codacons Vallo di Diano analizza il nuovo documento varato dalla regione Campania per ciò che riguarda l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una nuova riorganizzazione che vede il Luigi Curto contribuire per una fetta consistente nel ridimensionamento richiesto dal Ministero delle strutture complesse con una cospicua perdita di posti letto. Il responsabile Roberto De Luca si chiede se i tagli sono sopportabili per ripagare del riconoscimento d'idea di primo livello. Vediamo. Il nuovo piano ospedaliero fa discutere nonostante gli ospedali di Polla e Sapri vengano riconosciuti idea di primo livello. Nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione sul BURC del nuovo piano di programmazione della rete ospedaliera, da Sapri avevano fatto sentire la loro voce evidenziando come una serie di elementi lasciavano supporre un depotenziamento del presidio come ad esempio gastroenterologia, eccellenza dell'ospedale dell'Immacolata diventato unità ambulatoriale e ginecologia che perde il primario fermo restando la necessità di raggiungere 500 parti all'anno per il mantenimento del punto nascita. La situazione, secondo quanto denuncia il responsabile Codacons Vallo di Diano Roberto De Luca, non è diversa a quanto pare per il Luigi Curto di Polla con una netta riduzione dei posti letto, 48 e meno, a fronte dei 7 recuperati a cui si aggiungono i 25 posti letto del nuovo reparto di riabilitazione e la perdita di 8 strutture complesse che diventano semplici dipartimentali. Un'attenta lettura del piano, scrive Roberto De Luca in apertura della nota, svela qualche sorpresa. Il presidente della regione Campania ha affermato che l'ente è stato costretto dal Ministero della Salute a ridurre i numeri delle unità complesse. L'ospedale di Polla, prosegue, contribuisce a tale riduzione sul territorio per il 13%, 8 su 60, nonostante il bacino di utenza sia pari a solo l'1% dell'intera popolazione regionale. Roberto De Luca riferisce che Luigi Curto perde le unità complesse di ostetricia e ginecologia, pediatria, gastroenterologia, oculistica, nefrologia, neurologia, otorinolaringoiatria e pneumologia. Inoltre spiega che i reparti che si vedono ridurre i posti letto sono ostetricia e ginecologia, meno 10, medicina generale, meno 8, neurologia, meno 7, chirurgia, meno 5, 4 posti letto in meno per cardiologia e psichiatria, 2 in meno nei reparti di oculistica, ortopedia, unità coronariche e urologia. Infine perdono un posto letto sia nefrologia che geriatria. Guadagnano invece posti letto solo otorinolaringoiatria e gastroenterologia, rispettivamente più 4 e più 3. Nessuna variazione, infine per pediatria, terapia intensiva e pneumologia. Queste ultime due però perdono una struttura semplice. Ora si chiede Roberto De Luca, non resta che aspettare per capire se tali sacrifici siano sopportabili a fronte della promozione in dea di primo livello. Restiamo in tema sanità, aziende sanitarie e campane. Spendacione nonostante l'obbligo di ridurre del 5% la spesa. La procura della Corte dei Conti regionale, retta dal presidente regionale, il dottor Michele Oricchio, indaga su un aggravio delle spese per l'ente regionale di circa 5 milioni di euro, ritenuto ingiustificato. 12 le aziende sanitarie, ospedaliere ed universitarie nel mirino della Corte dei Conti, tra i quali figurano anche l'Asl di Salerno e l'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona. Scandalo sanità in Campania. La procura regionale della Corte dei Conti contesta a numerose strutture ospedaliere un danno erariale di circa 5 milioni di euro. Il procuratore Michele Oricchio ha citato infatti 12 dirigenti delle aziende sanitarie, ospedaliere ed universitarie campane, ritenuti irresponsabili di un consistente danno erariale a seguito del mancato conseguimento della riduzione della spesa di competenza rispetto agli obiettivi stabiliti dal legislatore per attuare la cosiddetta spending review. Nei guai direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi. La complessa indagine avviata a seguito di alcune spese anomale presenti nei bilanci della regione e delegata ai finanzieri della Compagnia di Nola ha consentito di rilevare che nonostante l'obbligo di riduzione del 5% della spesa, le strutture sanitarie pubbliche controllate non hanno provveduto ad adempiere a tale incombenza, producendo così un illegittimo aggravio di spesa per le casse dell'ente regionale, pari a quasi 5 milioni di euro. Guardia di Finanza e Procura Contabile hanno analizzato i bilanci della maggior parte delle strutture sanitarie pubbliche regionali, ovvero le ASL di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Napoli Nord e Napoli Sud, oltre alle aziende ospedaliere Ruggi, Dei Colli, Luigi Ivan Vitelli, Moscati, Rummo e dell'Istituto Pascale. E cambiamo argomento, andiamo a Sala Consilina, 3 milioni e 209 mila euro per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico del liceo Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, a breve saranno appaltati i lavori. Altri 3 milioni e 209 mila euro per una scuola di Sala Consilina. È arrivato infatti il via libera per i lavori di adeguamento sismico della struttura che ospita il liceo classico Marco Tullio Cicerone, le scuole medie Giovanni Camera. Il relativo protocollo d'intesa tra la provincia di Salerno e il comune di Sala Consilina è stato firmato giovedì mattina a Palazzo Sant'Agostino e a breve i lavori saranno appaltati. Si realizza dunque un nuovo importante tassello nel programma dell'amministrazione comunale di Sala Consilina guidata dal sindaco Francesco Cavallone, relativo agli istituti scolastici cittadini e alla sicurezza degli studenti, degli insegnanti e di tutti coloro che li frequentano. Più di 3 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 13 milioni e 500 mila euro finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e destinati al campus scolastico. Circa un anno fa il sindaco Cavallone si era recato dall'ex presidente della provincia Giuseppe Canfora, chiedendo di delocalizzare il finanziamento dell'Istituto Tecnico e Industriale al liceo classico Marco Tullio Cicerone, la cui struttura comprende anche la scuola media Giovanni Camera. Trattandosi di un finanziamento destinato alla provincia ma di carattere ministeriale, si è resa necessaria l'autorizzazione dello stesso Ministero. Il comune di Sala Consilina assumerà la progettazione e la direzione dei lavori sotto la guida del responsabile unico del procedimento, che resta la provincia di Salerno, responsabile della gara per l'appalto dei lavori che dovrebbe andare in porto entro il prossimo mese di maggio. E non si tratta dell'unica notizia positiva per le scuole di Sala Consilina. Il sindaco Cavallone promette a breve altre importanti novità. Abbiamo avuto un altro finanziamento che in realtà già era stato emanato ed era destinato per l'Istituto Tecnico Industriale. Nel momento in cui però l'Istituto Tecnico Industriale rientra nel progetto di scuole innovative del campus, nel quale progetto è previsto già l'abbattimento e la ricostruzione dell'Istituto Tecnico Industriale, all'inizio dell'anno scorso mi sono recato dall'allora Presidente della provincia, Dottor Giuseppe Canfora, per far delocalizzare questo investimento di 3 milioni e 209 mila euro dall'Istituto Tecnico Industriale all'Istituto al Liceo Marco Tullio Cicerone, che comprende anche la scuola media Giovanni Camera. E quindi trattandosi di un finanziamento destinato alla provincia ma di carattere ministeriale si doveva chiedere l'autorizzazione al Ministero per la delocalizzazione di questo finanziamento. La richiesta è stata fatta, ci è stato concesso ed oggi insieme con il dirigente dell'area tecnica ci siamo recati in provincia a Salerno per far firmare i due tecnici il protocollo d'intesa in cui il Comune assumerà la progettazione e la direzione dei lavori sotto la guida del RUP che rimarrà la provincia che farà la gara per i lavori. Certamente è un intervento molto importante di 3 milioni e 209 mila euro che riguarda l'adeguamento antisismico, quindi un ulteriore intervento su un'altra scuola a Sala Consilina. Credo che stiamo continuando in quella che era una priorità della nostra amministrazione e credo che entro maggio massimo dovrebbe essere appaltato il lavoro per fare questo tipo di intervento. È di qualche settimana fa la notizia che nella legge di bilancio 2019 il Ministero dell'Interno ha previsto fondi per i Comuni al di sotto dei 20 mila abitanti. Ogni ente è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 maggio prossimo appena la revoca del contributo. Per ora ad aver individuato già la destinazione del finanziamento sembra siano soltanto Monte San Giacomo e Teggiano per il Vallo di Diano. I Comuni della provincia di Salerno al di sotto dei 20 mila abitanti beneficeranno di un fondo complessivo di circa 8 milioni di euro e quanto annunciato qualche settimana fa dal Governo che nella legge di bilancio 2019 ha previsto tale misura a favore delle piccole realtà. Tutti i Comuni della zona sono interessati dal finanziamento non oltrepassando nessuno di essi la soglia dei 20 mila abitanti. Ogni Comune è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 maggio prossimo onde evitare la revoca del contributo per il mancato rispetto del termine. Due i Comuni del Comprensorio che hanno già individuato la destinazione dei fondi che sottolineiamo possono essere usati per realizzare piccole opere in settori come l'edilizia pubblica, la sicurezza del territorio, la manutenzione della rete viaria, la prevenzione del rischio sismico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Si tratta di Monte San Giacomo dove si interverrà per la messa in sicurezza della Fontana Silvana, antico lavatoio pubblico e la messa in sicurezza delle strade comunali. E poi Teggiano che invece userà i fondi per la messa in sicurezza di Piazza Portello e per interventi di manutenzione straordinaria quale asfaltatura di strade comunali e rifacimento della segnaletica orizzontale, guardraile e segnaletica verticale. Ricordiamo che l'ammontare del contributo è calcolato sulla base del numero degli abitanti. Quindi a Monte San Giacomo arriveranno 40 mila euro e a Teggiano 70 mila. Infatti sarà erogato un contributo di 40 mila euro per i comuni fino a 2 mila abitanti, di 50 mila euro per quelli fino a 5 mila abitanti, di 70 mila euro per i comuni fino a 10 mila abitanti e di 100 mila euro per quelli fino a 20 mila abitanti. Durante l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario a Salerno, il 26 gennaio scorso, il presidente della Corte d'Appello di Salerno, Iside Russo, ha presentato la relazione dell'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'Appello di Salerno che tra le attività svolte nel 2018 su tutto il territorio salernitano contempla anche un giudizio sulle attività e sui luoghi in cui viene amministrata la giustizia. Tra questi vi è l'ufficio del giudice di pace di Rocca d'Aspide che ancora una volta viene promosso confermandosi presidio di giustizia, di riferimento per avvocati e utenti nella città e nell'intera Valle del Calore. Andiamo avanti a Battipaglia, non si arrendono i lavoratori della Treofan lunedì pomeriggio, 4 febbraio, si daranno al Ministero dello Sviluppo Economico dove è stato convocato un tavolo tecnico per discutere dell'avvertenza. Partiranno in tanti dalla Piana del Sele per un sit-in davanti al Ministero durante le ore in cui si terrà l'incontro che deciderà il loro futuro. Ci saranno anche i lavoratori dello stabilimento di Terni della Treofan lunedì prossimo, 4 febbraio, l'ore 15, nel sit-in dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Nelle ore del tavolo che il Mise ha convocato tramite il vice capo di gabinetto Giorgio Sorial, anche dall'Umbria partirà il Pullman che porterà nella capitale. Operai e sindacalisti che sumiranno coloro che indossando un gile giallo partiranno da Battipaglia, dalla Piana del Sele, per un incontro ritenuto da più parti decisivo a seguito dell'ufficiale chiusura dello stabilimento battipadiese da parte di Gindal e dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo. Nel frattempo, come è accaduto per la mobilitazione di Piazza Mendola dello scorso 19 gennaio, è fronte comune tra i lavoratori dei due stabilimenti, il coordinamento del RSU di Terni in una nota ha definito grave e sconcertante l'iniziativa della nuova proprietà indiana perché c'è preoccupazione anche in Umbria sul destino del presso industriale. Per questo il tavolo al Mise di lunedì è considerato fondamentale e da lì, visti i soggetti al tavolo, si dovranno concretizzare e delineare, scrivono gli operai sindacalisti. I percorsi futuri per Treofan sono già stati attivati confronti con i rappresentanti degli enti locali che saranno presenti al summit e, data l'importanza, si sta organizzando un pullman per partecipare al sit-in al Mise insieme ai colleghi di Battipaglia. E parliamo ora di scuola, si sono chiusi i termini, ieri sera i termini per presentare le iscrizioni presso i nuovi istituti scolastici di riferimento, tra cui anche le scuole e gli istituti scolastici superiori. Il liceo scientifico Carlo Pisacane registra anche quest'anno un boom di iscrizioni superando il numero degli studenti iscritti lo scorso anno. Sono 120 i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado ad aver scelto come futura scuola che dovrà avviarli al mondo del lavoro. L'istituto diretto dalla professoressa Liliana Ferzola superando i 104 iscritti dello scorso anno, un dato importante e di maggior rilievo alla luce anche della riduzione degli alunni diplomati nelle scuole secondarie di primo grado del Vallo di Diano. I dati nazionali fanno sapere dal liceo Pisacane e confermano in tutta Italia una maggiore preferenza degli iscritti per i licei che si consolida come scelta per uno su due ragazzi. Ai nuovi iscritti continuano. Vogliamo lasciare un caloroso benvenuto da parte della dirigente scolastica Liliana Ferzola, della vicepreside Carmela Pessolano, da parte di tutto lo staff e corpo docenti del liceo Pisacane. Un ringraziamento speciale va anche a tutte le famiglie che hanno preferito il liceo scientifico Pisacane di Padula per la formazione dei loro figli come cittadini della società civile di oggi e di domani. E andiamo avanti, restiamo a parlare del liceo scientifico Carlo Pisacane perché gli studenti del Pisacane sono stati i primi studenti a poter partecipare ad una riunione del direttivo dell'ente Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Gli studenti dello scientifico sono stati infatti a Padua, Vallo della Lucania, oltre che presso la sede del parco anche in visita ai musei del parco. Vediamo. L'ente Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni si apre alla scuola e soprattutto apre le porte delle attività istituzionali agli studenti. I primi ad essere riusciti a partecipare ad una riunione del direttivo dell'ente sono gli studenti del liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula che accompagnati dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola, dalla vicepreside Carmela Pessolano e dai docenti Giovanna D'Alessio e Pierpaolo Fasano hanno avuto modo di partecipare ad una riunione del direttivo nel corso del quale sono stati anche affrontati temi di grande interesse. Un'occasione per capire in che modo si muovono le istituzioni a favore dei territori su cui operano. A partecipare per la prima volta alla riunione del direttivo del parco, in un appuntamento fitto di argomenti in discussione, i ragazzi delle classi quarta e quinta del liceo Pisacane che dopo essere stati accolti dal presidente dell'ente Pellegrino, ricordando loro di essere stati antisignani di una giornata ritenuta storica, hanno seguito i lavori in cui si è discusso di temi come il progetto di Plastic and Paper Free, la prossima partecipazione alla Borsa internazionale del turismo a Milano, con l'evento anche che vedrà il territorio e prodotti tipici locali protagonisti dell'emittente a liceo tv. Immancabile poi un momento di ricordo dell'onorevole Antonio Valiante. Inoltre i ragazzi hanno anche avuto modo di conoscere in anteprima il nuovo sito e social dell'ente parco che dovrebbe essere attivo dal 30 marzo prossimo, così come è stata esposta alla presenza degli studenti la proposta per la realizzazione di un docufilm del parco. Non è stata solo una visita tecnica quella dei ragazzi del liceo scientifico ma anche particolarmente interessante dal punto di vista culturale. Gli studenti infatti prima di entrare nel vivo delle attività istituzionali hanno avuto modo di visitare i musei del parco per immergersi nella ricca realtà floristica e faunistica dell'area protetta. Una giornata interessante che ha consentito agli studenti del Pisacane di rafforzare le loro conoscenze e apprezzare maggiormente il loro territorio. Un'iniziativa che si integra perfettamente con i progetti e le iniziative adottate dalla scuola diretta da Liliana Ferzola nell'ambito della formazione per spingere gli studenti ad amare di più la propria terra e ad essere parte attiva nei progetti di sviluppo, crescita, valorizzazione e promozione delle sue bellezze. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg. Apriamo andando a Padula dove si terrà domani la rassegna Cinema e Certosa ideata dall'amministrazione comunale e dall'associazione Vallo a Conoscere di Pasquale di Maria. Si analizzerà con giornalisti, attori e registi il ruolo della Certosa di San Lorenzo come location cinematografica. Cinema e Certosa la rassegna curata da Vallo a Conoscere dal comune di Padula parte domani sabato 2 febbraio a partire dalle ore 17.30 presso i locali delle Derrade nella corte esterna della Certosa di San Lorenzo. Sarà un momento di riflessione e confronto in cui verrà analizzato il ruolo del monumento certosino come location cinematografica a partire dal film storico quanto è bello l'umorire acciso, che racconta la spedizione di Carlo Pisacane, un film del 1975 diretto da Ednio Lorenzini e con Stefano Satta Flores. Nel 1976 ricevette un David di Donatello e un nastro d'argento e numerose scene vennero girate proprio nella Certosa di San Lorenzo. Ad introdurre saranno il sindaco Paolo Imparato, l'assessore alla cultura Filomena Chiappardo, il founder di Vallo a Conoscere Pasquale di Maria. Sarà presente poi un ospite speciale Francesca Satta Flores, attrice e regista, figlia di Stefano che nel film interpretò il ruolo di Carlo Pisacane. Interverranno a parlare di cinema, Certosa e beni culturali i giornalisti Angelo Raffaele Marmo e Giuseppe D'Amico. L'evento, in cui verranno proiettati diversi spezzoni del film, anticipano gli organizzatori, rappresenterà un'occasione importante per riflettere sul patrimonio artistico e ripercorrere una fase storica in cui lo stesso è stato usato come set cinematografico per diverse pellicole di successo. Un incontro interessante sia ai contenuti sarà dato un taglio pratico, quindi se la discussione sarà finalizzata, e così sembra, ad immaginare scenari futuri, verosimili se si riesce a sfruttare quella tendenza che è andata affermandosi nel corso del Novecento, definita con il neologismo di cineturismo, un fenomeno socio-economico-culturale che anche in Italia ha attecchito da diversi anni. Spostiamoci a Capaccio Pestum, proseguono le operazioni di restauro del Tempio Nettuno di Pestum, dopo aver agito sulle parti del monumento, ora è la volta dei pavimenti. Intanto il direttore del sito, Gabriel Zucktrigel, fa sapere come si stia progettando, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno, un programma di manutenzione ordinaria del Tempio. Si punta al monitoraggio continuo per evitare casi di emergenza. Proseguono gli interventi di restauro nel Tempio meglio conservato della Magna Grecia, il Nettuno di Pestum. Dopo le operazioni sulle parti in alto, che si sono rivelati più complessi e più difficili del previsto, adesso è il turno del pavimento del gigante di pietra costruito 2.500 anni fa. Dopo una serie di interventi di recupero al seguito di un lungo periodo in cui per mancanza di fondi non era stato fatto nulla o quasi, adesso ci prepariamo a fare un salto di qualità, commenta il direttore del sito, Gabriel Zucktrigel. Prendendo spunto anche dal modello virtuoso di Pompei, metteremo in atto un programma di manutenzione ordinaria che ci permetterà di intervenire prima ancora che si verificano delle emergenze. La manutenzione ordinaria è la grande sfida che farà la differenza sia dal punto di vista della tutela che della fruizione. Parte del piano di manutenzione che il Parco archeologico sta attuando in base a un continuo confronto con altri siti ministeriali ed enti di ricerca, sarà un sistema di monitoraggio sul tempio elaborato dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno. Otto sensori di tecnologia avanzata posizionati sul monumento permetteranno un monitoraggio continuo, una specie di TAC che potrà essere consultato attraverso la rete in tempo reale, spiega il professor Luigi Petti dell'Ateneo Salernitano. Ciò consentirà di rilevare il comportamento del tempio ed elaborare un modello della struttura interna del monumento, onde prevale eventuali fenomeni di deterioramento statico. Per attuare il progetto i tecnici del Parco archeologico e dell'Università hanno stimato costi pari a circa 110.000 euro, somma per la quale è stata avviata una raccolta fondi sul portale Art Bonus in maniera tale da dare a tutti la possibilità di contribuire alla salvaguardia del tempio di Nettuno. Passiamo ora al teatro, andiamo a Monte San Giacomo, domani sera, quarto appuntamento per la rassegna teatrale Teatro a Casa Marone sul palco, salirà la compagnia liberamente di Sarconi in provincia di Potenza con la commedia dialettale Cosa del Lato Munno. Domani sera risate assicurate per il quarto appuntamento di teatro a Casa Marone salirà sul palco la compagnia di Sarconi liberamente. Porterà in scena la commedia in dialetto sarconese Cosa del Lato Munno. Per la regia di Giuseppe Bartolomeo, due atti che si preannunciano divertentissimi. La rassegna Teatro a Casa Marone è stata ideata dall'associazione culturale Terenzio Castella che da diversi anni la organizza insieme al comune di Monte San Giacomo nell'ambito del progetto Grotta Briganti e Cacio. Nasce nelle intenzioni degli ideatori come un momento intimo della comunità locale che si raccoglieva intorno alla celebrazione attraverso l'arte teatrale dei momenti esemplari della propria storia tradizionale. Poiché il teatro non è solo divertimento ma anche diffusione della cultura e della conoscenza, la rassegna con gli anni si è estesa fino a coinvolgere compagnie della provincia di Salerno e Potenza proprio per divulgare e valorizzare le proprie eccellenze e al contempo dare spazio e visibilità a realtà affine alla propria per culture e tradizioni. Tutte le compagnie in cartellone anche quest'anno esprimono il loro talento con spettacoli variegati per generi e contenuti ma con un fil rouge che le unisce tutte, il dialetto e il patrimonio linguistico che meglio veicola la comicità e quindi utilizzato per esprimere situazioni, sentimenti e modi di vivere. Domani sera a farla da padrone il dialetto di Sarconi a partire dalle ore 19 a Palazzo Marone va in scena a coso relato Munno. E ora allo sport, vediamo quali sono le designazioni arbitrali per le prossime gare ma soprattutto vediamo quali sono gli arbitri della sezione AIA di Sala Consilina che scenderanno in campo. Tutti in campo come di consueto ogni settimana sta per iniziare un nuovo turno di campionato che vedrà impegnati i fischietti della sezione AIA di Sala Consilina. Partendo dai nazionali nella giornata di domenica pomeriggio, Ivar Robilotta sarà di scena nel match clou di Serie C tra Rezzo e Robursiena, mentre in Serie D al Galli di Tivoli, Cristian Robilotta dirigerà Lupa Roma a Visartena. Solide certezze ma anche sordi stagionali, come quello che vedrà protagonista domani in seconda categoria Francesco Marchesano, arbitro in Pertosa-Castelvernieri. Sempre sul tema, domenica invece, il tanto atteso debutto di Manuel Cuozzo in prima categoria per la gara a un bad coperchio a Sporting. L'esordio della giovane doveva concretizzarsi già lo scorso anno, ma tutto saltò all'ultimo momento per l'assenza della squadra ospite. Intanto, nella giornata di ieri, il polo allenamento nazionale di Sala Consilina ha ospitato i test atletici degli arbitri Can 5 sotto la guida del preparatore atletico Davide Putrino. Oltre ai locali Giampiero Caffaro, Giuseppe Aumente e Giglio Pietro Granata, presenti anche Antonio Marino della sezione di Agropoli e Paolo Lapenta della sezione di Moliterno. Per quanto riguarda gli aggiornamenti continui e quegli arbitri devono sottoporsi, la sezione Salesi, attraverso la propria pagina Facebook, fa sapere come la prossima riunione tecnica obbligatoria si terrà in sede il 25 febbraio. L'incontro, che avrà inizio alle 18.30, vedrà la presenza del componente del settore tecnico Giovanni Pentangelo. Non resta che aspettare lunedì, quindi, per fare un bilancio dettagliato di questa due giorni di sport. Ed era questo l'ultimo servizio di oggi, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.